Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts, Birth by Sleep Final Mix. Nello scorso episodio siamo andati nella landa del mistero e il maestro Xehanort ci ha detto di aiutare Ven, poiché aveva scoperto la verità delle sue origini. Siamo andati nella terra di partenza, ma purtroppo Eraqus ci ha attaccati, noi ci siamo difesi e il maestro Xehanort ne ha approfittato, eliminandolo. Comunque, in questo episodio andremo nell'ultimo mondo, verso la battaglia finale, nel cimitero dei Keyblade. Ora, piccola cosa, da adesso in poi, tutti i mondi, come notate, aumenteranno il loro livello di difficoltà. Infatti ora c'è tanta roba di potenziale, cioè praticamente ogni posto è perfetto per allenarsi, tranne la città Disney. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace, e andiamo subito nel cimitero dei Keyblade. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un'amore. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un'amore. E adesso, eccoci qui, nel cimitero dei Keyblade Ora, piccolissima cosa che devo dirvi Notate i PS di terra Allora, ho dovuto fare purtroppo una piccola cosa Ovvero, non qui Diari segreti Ho dovuto, purtroppo, non mi ricordo qual è il diario Penso il numero 5 Penso di sì, vabbè Insomma, sono dovuto andare nell'arena del miraggio Per prendere uno di questi diari Di Xehanort Perché, piccola cosa Nella storia di terra, solo un diario È disponibile nella... Come si dice? Insomma, è disponibile, però bisogna fare cose secondarie Sono dovuto andare Lì dentro E purtroppo... Sì, sono dovuto entrare nell'arena del miraggio Però ho ottenuto solamente Una volta dei PS Plus Ovvero, un potenziamento dei PS E basta Non ho avuto altro E comunque, quei PS potrebbero tornarmi utili Ora Voglio cercare di fare questo episodio Di prendere tutto al 100% Di quello che posso prendere qua Allora Mi mancano Sei scrigni E quante tessere? Cioè, tessere Quanti figurine? Una sola Ok Allora Direi di andare avanti Comunque In questo episodio Voglio utilizzare Il Keyblade Più brutto di tutti Ma il più potente di tutti Pandemonio Lo userò solo questa volta E basta Solo questa volta Per farvi vedere quanto è potente E comunque Wow Che razza di buco E come dire Wow Che roba Ecco la mappa del cimitero dei Keyblade E adesso Proseguiamo E ora Qui Non ci sono dei nemici Ci sono dei tornadi E questi tornadi Contengono nemici Ora Questi nemici sono particolari A parte Come vedete Subiscano pochi danni Perché Questa magia È veramente bassa Ma veramente bassa Ok Guardate Cioè Non gli ho fatto praticamente nulla Non gli faccio niente Con questo Keyblade In fatto di Potenza magica Ma nel fatto di attacchi fisici Li devasto totalmente Allora Voglio salire fino al livello 30 E poi userò Esperienza 0 Perché voglio essere di livello 30 Dicevo Poi Questi nemici Sono molto particolari Perché Perché loro Hanno un qualcosa Di molto Unico Rispetto agli altri Hanno Delle Corruzioni Se si può dire Cioè Non è un bug Non so come definirle Insomma Capendo Quali nations Ci sono Hanno delle Statistiche Precise Tipo Quando c'è il Boxer Insieme a quei due Pili pili blu Che in realtà Non si chiamano Pili pili blu E l'attacca brighe Sono lenti Hanno castato Lentezza E invece Qui in essence Sono enormi E vi fanno Veramente tanti danni Comunque I loro punti vita Non cambiano Hanno sempre La solita quantità Di punti vita Veramente pochi Ma state attenti Fanno veramente Molti danni Allora Vai Ok Tanto per Vieni qua Te Livello 30 Perfetto Magia e difesa aumentata Era quella che volevo Allora Beccati questo Te Allora vai E comunque Piccola cosa Giusto per fare Un po' di danni Allora Dovrei mostrarvi ancora Peter Pan Malefica E basta Peter Pan E malefica Direi di mostrarvi solo Peter Pan Perché Malefica Sè Ok Allora Peter Pan E adesso Peter Pan Attacchi aerei Cioè Sfrutta la modalità Aerea E basta Allora Ovviamente Guardate quanto Sono lenti Hanno letteralmente Castato lentezza Su di loro Prima della Prima dello scontro E adesso Furore di lame Questo attacco È potentissimo Perché contro i boss Fate un sacco di danni Non scherzo Potete shottare il boss finale E non scherzo Ripeto Potete shottare il boss finale Con solo questo attacco E ripeto Non scherzo Quanto è potente Peter Pan È davvero potente Allora Wow Quanto sei lento Davvero È potentissimo Peter Pan Non sto scherzando Allora Abbiamo ottenuto Un po' di roba Cosa ho ottenuto Vabbè Colpo fissità Che è inutile A questo punto del gioco Ho già tutti i miei comandi Allora Abilità Ora attivo Esperienza 0 Vai Perfetto E tanto per Devo disabilitare anche Conta passi esp Come dire E ora No Direi prima di sconfiggere tutti E poi prendo tutto E tutto Allora di nuovo questi qua Comunque le modifiche Possono essere Ehm Allora Delle Come dire Dimensioni Se mi ricordo Se mi ricordo Aio Oioi Allora Meteora Tanto per E tu vieni qua Oioi Allora dicevo I cambiamenti di statistiche Sono questo Poi Sono troppo veloci O meglio O meglio rettifichiamo Sono veloci Lenti E sono grandi Davvero C'è tanta Tanta scelta Allora Beccati Beccati Questo Aio Mamma mia Quanto danno Beccati No Ohioi Allora Allora Cerchiamo di fare in fretta Perché davvero C'è un bel po' da fare E si Certe volte Possono rimanere Fermi così Comunque Questo episodio Durerà Veramente poco Non come lo scorso Ora Qui I nemici Sono tutti veloci Sono tutti Velocissimi Allora No Non dirmi che Ok Allora Perfetto Blizzonante E adesso Ecco quelle cavolo di piantine Vieni qua Ok Allora Vieni qua Ok Ok Comunque vi chiedo scusa Se non Se non vi faccio vedere Peter Pan A livello massimo Però penso di fare Forse L'ho segnato Penso di sì Un attimo No Vabbè Ci penserò Forse Di farvi vedere Un episodio Di sole Ud Però Vedremo Allora Mega etere Direi Che cosa ho fatto Vabbè Direi Tesorie Di prendere Di prendere adesso Tutti i cosi E poi Di andare avanti Allora Qua c'è un altro Mega pozione Adesso Lo so L'ho mancato Ho fatto apposta Figurina Brillo Era Brillo Vabbè Tagliavento Allora Tagliavento Non mi ricordo Cosa è Cosa è Tagliavento 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 Genera un vortice Con un attacco rotante Scraventa via I nemici vicini Ah ok Mi ricordo È tipo Forza brutale Però dovrebbe essere Di elemento vento Quindi Cioè Di elemento aero Meglio Allora Prendiamo questo Terra Mega Elisir Allora Comunque Piccola cosa Che volevo dirvi Intanto Rimettiamo Assolutamente Geoflagello Nell'arena del miraggio C'è un keyblade Che potete prendere È opzionale Ovviamente Io pensavo Di volerlo prendere E di farvelo vedere Ora Però sinceramente Non avevo voglia Di farmarlo Perché avrei dovuto Farmare E sinceramente Ripeto Non ci avevo Per niente voglia Allora Cosa dovevo fare Vedere Allora Tesori Presi tutti Perfetto E figurine Prese tutte Perfetto E adesso Possiamo andare avanti E finire E finire l'episodio Perché siamo All'ultimo punto Di salvataggio Allora Compriamo Qua non dovrebbe Eserci nulla A parte tagliavento Esatto Nulla di nulla Comunque Adesso Cosa dobbiamo farci Con questi tasselli Ma ovviamente Utilizzarli Allora Album di figurine Delle figurine Allora Il tutorial Non c'è No non c'è Il tutorial Va bene Allora Dobbiamo mettere Le figurine Nel posto giusto E Nel posto giusto Vi darà Sette punti Ci sarà questo suono Allora Te dire qua Esatto Dovete guadagnare Sette punti Perfetto Cristallo vigore Che ovviamente Io non è che ne ho Novantanove Allora qua Esatto Ventotto Tu vai qui Uno Due Tre Ok Tu direi qua Quarantadue Fuochi d'artificio Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Allora No Non va bene Ovviamente Davanti terra E come dire Penso di metterti qua Perfetto Te qua Ok Lemon golfier Ovviamente In cielo Ripeto Dovete sentire Questo Ching Direi di metterlo Qua Direi Un attimo Morstua Questo è buono Questo è buono Se mi ricordo Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ok Devono come vedete Lampeggiare Se lampeggiano Vuol dire Che è il loro Posto Preciso Ovviamente Io non starò A levare E rimettere Perché se no Davvero Ci lascio Le penne Forse posso Legarlo Qua Vabbè Dice che è il Posto giusto Allora Sette Ok Ora Qua No Qui Ok Allora Mongolfiare Ovviamente Sempre Nel cielo Ok Controllate Sempre Il costo Allora 98 C'è il costo Il punteggio Allora Ok 105 112 Incrocio Sonico Che è Buono Qua Anzi Mettiamole qui Tanto per 19 Tu Ti rimetto qua Questo palloncino Boh Ok Però direi qui Tanto per E adesso Ultimi Due Allora Questo Ok E adesso Ultimo 140 Hai ottenuto Ritmo Mixer Hai completato L'album Delle figurine Completato Al 100% Perché 140 È il massimo Abbiamo ottenuto Tutto Allora Ritmo Mixer Cosa è Perché Questo È una cosa Opzionale Opzionale Esclusiva Di Final Mix Meglio Allora Ritmo Mixer Si attiva Quando hai già cambiato Lo stile Dei comandi E poi Usi i comandi Di elemento Tuono E comandi Come scudo Esplosivo O colpo Fire Questo Coso È un piccolo Lo schifo Primo È di elemento Neutro E soprattutto Ripeto È esclusivo Di Final Mix Se mi ricordo Nella versione PSP C'era Un cristallo Mi sembra A livello 140 Di punteggio 140 Allora Controlliamo Quello che abbiamo Ottenuto Fuochi d'artificio Dei fuochi d'artificio Scoppiettano nel cielo E potrebbe Succedere qualcosa Di speciale Se mi ricordo Allora Questo è il drop rate Coriandoli Questo Allora Drop rate Coriandoli Dovrebbe essere I manni Tipo Non mi ricordo Perché ci sono Tre attacchi Di questo tipo Coriandoli Fuochi d'artificio E piccola cosa Posa vincente Posa vincente Mettendovi in posa Facendo Facendo Quest'attacco Che in realtà Non è un attacco Ma vabbè Dovreste guadagnare Più punti esperienza Se mi ricordo Però Vabbè Non li ho mai usati Praticamente Questi cosi Quindi Allora Dove sono Le cose Ecco Morstua Attacco rotante Che infligge Maggiori danni Se esiste Se eseguito Con pochi PS C'è un attacco Che io volevo Ottenere Però purtroppo Non ce la facevo Con i tempi Si chiama Sacrificio Cioè Non ce la facevo Con i tempi Ehm Vabbè Per cose mie C'è un attacco Chiamato Sacrificio Per terra Questo attacco Di mezzo I vostri punti vita Ma Più punti vita Consumate Più potente Sarà il colpo Ma veramente Fa male Può togliere Tipo una barra Al boss Se avete un boss Davanti Poi Incrocio sonico Vabbè Basta Solamente quello Solo quello Ok Il resto Ce l'abbiamo già Allora Devo farvi vedere L'attacco Ritmo mixer Piccola cosa Uscite e rientrate Perché qui Non ci saranno più I tornadi Se Dall'altra parte Terra Se fate come ho fatto io Se li ho sconfitti tutti Allora Cosa dovevo usare Scusa Comandi di elemento Tuono E comandi come scudo esplosivo Ok Forza Allora Intanto questo E ovviamente Non mi da nulla Ai ai Ok E adesso Devo andare Con comandi Di elemento Tuono Quindi Non te Ma te Allora Niente Magnete Perché Se no Vado in Coso Allora Vai Ancora elemento Tuono Allora Peccati questo Allora Perfetto Ed ecco il ritmo Mixer Però mi sa Che non ce la faccio A farvelo vedere Vero Allora Forza Energiga Allora Ritmo Mixer Ripeto È potentissimo Fa veramente robe Allora Ah Cavolo C'è veramente Pochi Cosi Comunque Ok È stato caos Purtroppo Ci mettete un secolo Per andare In quello Stato E poi Niente Davvero C'è in quello Stato In quello Stile dei comandi Forse Ce la faccio Se vado Nel giardino Radioso Faccio un taglio Perfetto Allora Vai E adesso Dovrei aver eliminato Tutti i nemici Esatto Allora Questo attacco È molto potente Molto potente Ma non per questo Per questo Vi dico Nella versione PSP Se mi ricordo C'era questa opzione Di poter Trasferire I vostri dati A un nuovo File O no Penso Di sì Non mi ricordo Sinceramente Comunque Avete visto Quanto è potente Vi dico solo Quelle scosse Con esperienza Zero Fanno tanto male Fanno veramente male Quindi direi che Contro il boss finale Ovviamente dovrò Togliere esperienza Zero Se no faccio Troppe robe Comunque Abbiamo finito Nel prossimo episodio Di Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Andremo Laggiù Quindi Vi invito a scrivervi A lasciare un mi piace O un non mi piace E al prossimo episodio Ciao Ciao